Ciao a tutti ragazzi, oggi proveremo come fare esplodere questi due. Allora, mettiamogli una bomba, che ho una bomba, la metto qua, alziamola la bomba, no è piccola questa bomba non funziona, prendiamo un'altra bomba, andiamo a lanciare la C4, la C4 dovrebbe rompere le statuole, la C4 sono delle forze, la C4 sono, rompono come dei muri, la C4 li mettiamo in mezzo alle camera, li mettiamo anche in un blocco, li mettiamo così, vediamo se muoiono, ora, vediamo, facciamo il testo, perfetto, li posso collegare? 2 in un pulsante, quindi quando clicco il pulsante esplode, prova del 9, vediamo chi morirà, o non morirà, però è stato non morto, mi sta laggando, ha tolto, sono morti, sono morti, no, io non penso che li posso appaccare, neanche quel piccone ha stato, sì, sono morti, ciao! Ciao! Grazie a tutti.